Buongiorno cari ascoltatori di Radio Puggino NER e benvenuti ad un nuovo episodio del nostro podcast. Ci dedichiamo ad una storia che ha scosso profondamente l'opinione pubblica italiana e internazionale, il ritorno di Ilaria Salis in Italia dopo 16 mesi di prigionia in Ungheria. Finalmente Ilaria Salis è tornata in Italia, un caso complesso che tocca temi di giustizia, diritti umani e dinamiche politiche europee. Esploreremo i dettagli della vicenda, le implicazioni legali e le reazioni che ha suscitato. Preparatevi a un'analisi approfondita e dettagliata per capire meglio questa storia intricata. Non c'era la Meloni come ad accogliere Ilaria Salis al suo rientro in Italia dove invece la Meloni era presente a rientro di Chico Forti, peccato che lui è accusato di omicidio mentre Ilaria Salis solo di aver dato qualche botta, aver picchiato dei neonazisti. Insomma due cose ben diverse. Naturalmente è questo in una manifestazione di neonazisti che sembra che in Ungheria siano liberi di fare quello che vogliono. La sua partecipazione è stata quella di una contro manifestazione verso questi personaggi che magari è degenerata poi in una rissa e naturalmente quando c'è una rissa chi le prende, chi le dà. Insomma vai a capire poi cosa è successo in realtà. Dunque una cittadina italiana che se non altro merita di essere giudicata in Italia perché in Ungheria non mi sembra che ci siano dei buoni segnali di democrazia per cui sarebbe stato piuttosto sciocco e nello stesso tempo anche criminale lasciare Ilaria Salis in Ungheria a scontare la pena piuttosto che in uno stato democratico almeno un po' più democratico come l'Italia ma nessuno è riuscito a fare nulla o ha voluto fare nulla finché poi Ilaria Salis candidandosi come europarlamentare attraverso Alleanza Verdi e Sinistra è riuscita ad ottenere la libertà almeno per il momento grazie all'immunità parlamentare che si riceve una volta eletti euro parlamentari. Ilaria Salis, eurodeputata eletta con Alleanza Verdi e Sinistra è finalmente tornata in Italia dopo 16 mesi dunque di prigionia in Ungheria. La sua vicenda ha catturato l'attenzione ed Emilia ha sollevato numerose questioni sulla giustizia e sui diritti umani e Ilaria Salis è arrivata nella sua casa di famiglia a Monza intorno alle 19 accolta dai genitori che erano andati a prenderla in Ungheria. Al suo arrivo Ilaria ha accennato un sorriso, un gesto che ha commosso i tanti giornalisti presenti all'ingresso davanti la casa. La famiglia Salis ha descritto il ritorno di Ilaria come la fine di un incubo. Il padre Roberto Salis ha raccontato ai giornalisti che hanno voluto immortalare il momento con una foto davanti al cartello di Monza, un gesto semplice ma significativo dopo un periodo così difficile. Ilaria Salis che compirà 40 anni lunedì prossimo è molto stanca e provata. Ha subito un periodo di carcerazione molto intenso durante il quale ha anche subito delle torture. Ora ha bisogno di riposo e di tempo per recuperare. Il caso di Ilaria Salis è iniziato con l'accusa di aver aggredito due militanti neonazisti in Ungheria. Arrestata e detenuta per 15 mesi, Ilaria era recentemente ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La svolta è arrivata con la sua elezione al Parlamento europeo che le ha garantito l'immunità parlamentare portando alla sospensione del processo. Tuttavia la vicenda giudiziaria non è ancora conclusa. Il giudice ungherese potrebbe chiedere al Parlamento europeo di avviare la procedura di revoca dell'immunità. Se la maggioranza del Parlamento voterà a favore della revoca, il procedimento penale potrebbe continuare durante il mandato di Ilaria. Vedremo cosa accadrà. Speriamo che il buonsenso prevalga, almeno nella maggioranza degli europarlamentari e speriamo anche che tutta questa escalation di estrema destra non vada a rovinare tutti i progetti che al momento sembrano aver funzionato come questa elezione in Europa per poterla tirare fuori da quella situazione. È naturalmente una soluzione che ha funzionato nello stesso tempo anche per Sinistra Verdi Italia, AWS, che ha ricevuto molti più voti di quello che tutti pensavano. L'immunità parlamentare è un privilegio che protegge gli eurodeputati da procedimenti giudiziari che potrebbero interferire con le loro funzioni. Tuttavia questa protezione non è assoluta. La norma sull'immunità non può essere invocata in caso di flagranza di reato. Nel caso di Ilaria Salis, l'accusa ungherese sostiene di avere un video, avere un video che potrebbe costruire prova di flagranza. La decisione finale spetterà ad una commissione parlamentare europea che dovrà esaminare il video e stabilire se vi sono i presupposti per la revoca dell'immunità. Il caso di Ilaria Salis ha suscitato reazioni contrastanti sia in Italia che in Europa. Poi stavo riflettendo su una cosa, ma chi ce la rimanda, Ilaria Salis, in Ungheria. Voglio vedere con quale faccia la Meloni, il governo italiano, permette che venga estradata in Ungheria per continuare il processo. Secondo me non ci torna più. Se la prendono in del secchio, ma non è detto che lo Stato italiano poi faccia la cosa giusta perché spesso non la fa. Per cui vedremo. Ma dicevamo, molti esponenti politici e attivisti per i diritti umani hanno espresso solidarietà a Ilaria, criticando duramente le autorità ungheresi per il trattamento riservato all'eurodeputata. D'altro canto, alcuni gruppi politici e media hanno sottolineato l'importanza di rispettare le leggi e i procedimenti giudiziari nei paesi membri dell'Unione Europea, ma sono dei poveri, non posso dire cosa penso, perché in realtà dovrebbe essere proprio uno Stato, questo Stato dell'Unione Europea, che è l'Ungheria, a rispettare i diritti umani. Allora se ne può anche parlare. Anche perché senza l'immunità parlamentare sai quanti criminali veri sarebbero stati in carcere invece che libertà. Nel caso di Ilaria Salis, lo ricordiamo, è stata accusata in un paese che non è affatto democratico. Sappiamo bene qual è la leadership di Orban e sappiamo bene anche che questo neo nazismo da Orban e dall'Ungheria non è mal visto, dunque uno Stato che non è davvero così democratico e non capisco sinceramente come fa a stare in Unione Europea senza che l'Unione Europea insomma un attimo gli faccia capire che non è questo il modo di comportarsi in Europa, oppure l'Europa è anche questo. Perché se è così allora sorgono altre domande. In Italia il ritorno di Ilaria Salis ha riacceso il dibattito sulla giustizia e sui diritti umani. Il suo caso ha messo in luce le difficoltà e le contraddizioni nel sistema di cooperazione giudiziaria tra i paesi dell'Unione Europea, un altro punto di cui si dovrebbe parlare. Inoltre ha sollevato interrogativi sulla situazione dei diritti civili in Ungheria, un paese spesso criticato per la sua gestione autoritaria e repressiva delle opposizioni. I media hanno giocato un ruolo fondamentale nel caso di Ilaria Salis, mantenendo alta l'attenzione sul suo caso e sulle condizioni della sua detenzione. Il ritorno di Ilaria Salis in Italia è stato seguito da una copertura mediatica intensa con numerosi giornalisti presenti al suo arrivo a Monza e meno male, vista la copertura invece che c'è stata per Chico Forti e addirittura c'era il Presidente del Consiglio ad accoglierlo. Questa attenzione mediatica ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica a mantenere la pressione sulle autorità ungheresi e italiane. L'opinione pubblica da parte sua si è mobilitata in vari modi con manifestazioni di solidarietà e campagne sui social media. Il caso di Ilaria Salis è diventato un simbolo della lotta per i diritti umani e della resistenza contro le ingiustizie e probabilmente anche contro i neofascisti e i neonazisti. La solidarietà mostrata dai cittadini italiani ed europei ha avuto un impatto significativo dimostrando ancora una volta il potere dell'opinione pubblica nel sostenere cause giuste e nel fare pressione sui governi. E poi abbiamo visto che molte persone hanno anche votato Ilaria Salis proprio con l'intento anche di farla tornare in Italia. Guardando al futuro Ilaria Salis dovrà affrontare un periodo di recupero e di riflessione ma anche di partecipazione dunque alla vita politica e mediatica della comunità europea essendo è stata eletta eurodeputata. La sua esperienza di prigionia e tortura avrà sicuramente lasciato segni profondi ma ha anche rafforzato la sua determinazione a lottare per i diritti umani e la giustizia. Come eurodeputata Ilaria avrà la possibilità di portare la sua esperienza personale e le sue battaglie sul palcoscenico europeo contribuendo a sensibilizzare i colleghi e le istituzioni sulle violazioni dei diritti umani. Il futuro del procedimento giudiziario rimane incerto. Se il Parlamento europeo dovesse revocare la sua immunità, a parte che sarebbe davvero assurdo, Ilaria potrebbe trovarsi nuovamente a dover affrontare il processo in Ungheria. Speriamo anche che lo Stato italiano faccia qualcosa, chi lo sa. Magari ha cercato di fare il massimo per riportarla in Italia ma non è stato possibile. In ogni caso la sua vicenda continuerà ad essere eseguita con attenzione dai media e dall'opinione pubblica che non mancheranno di supportarla e di vigilare sul rispetto dei suoi diritti. In conclusione il ritorno di Ilaria Salis in Italia segna la fine di un incubo ma anche l'inizio di una nuova fase della sua vita e della sua carriera politica. Il suo caso ha sollevato importanti questioni di giustizia e diritti umani evidenziando le sfide e le contraddizioni del sistema giudiziario europeo. Noi di Radio Puggino NER continueremo a seguire da vicino questa vicenda fornendovi aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale. Grazie per averci ascoltato in questo dettagliato e lungo episodio. Continuate a seguirci per ulteriori analisi e discussioni sui temi più importanti della politica e dell'attualità. Al prossimo episodio di Radio Puggino NER. Grazie per essere stati con noi.